Perché e-commerce? L'e-commerce ormai è la forma di vendita preferita dai consumatori, quindi a livello mondiale è sempre in crescita e anche in Italia nonostante la crisi l'e-commerce sta crescendo. Dati ufficiali del 2012 dicono che è cresciuto del 12%, nel 2011 del 30% e da un giro d'affari diventa un miliardo di euro. In questo settore si posiziona Sedia Reda, Sedia Reda è nata nel 2000, è il più grande e-commerce per volume d'affari d'Italia, soprattutto è diventato un punto di riferimento sia per i propri concorrenti ma anche per i clienti, i fornitori. Il nostro mercato è l'Europa ma abbiamo fatto molte vendite anche fuori d'Europa come dei resort, ristoranti in tutte le parti del mondo. Sedia Reda naturalmente è posizionata nel distretto della Sedia, quindi abbiamo moltissime collaborazioni con i più grandi marchi ma anche con i piccoli produttori, quindi attraverso i store ufficiali. Noi cosa possiamo offrire al distretto? Noi offriamo sicuramente una vetrina, può essere un'opportunità di vendita ma può essere anche solamente una vetrina per un acquisto non online ma offline, infatti da ricerche diciamo che moltissimi utenti si informano online e poi dopo vanno a prendere nei negozi normali, quindi i grandi catene o i negozi monomarca. Ormai nessuno più può escludere l'online dalla propria attività, sia che sono i grandi marchi che i piccoli produttori, naturalmente i piccoli produttori devono cercare delle collaborazioni, è difficile aprire un proprio e-commerce solamente con una piccola aziendina, quindi quello che offriamo noi è anche dare queste consulenze, queste opportunità anche ai piccoli produttori e magari ai grandi marchi di gestire un e-commerce proprio ufficiale.